La chirurgia refrattiva deve essere eseguita quando il difetto di vista sia stabile e quindi dicono le Sacre Carte che l'età giusta è quella compresa tra i 20 e i 65 anni. È chiaro però che se una persona giovane, circa 20 anni, vuole effettuare questo tipo di chirurgia deve certificare la propria stabilità refrattiva eseguendo dei controlli oculistici che diano la sicurezza che il difetto di vista è stabile perlomeno da 18 mesi.